ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi giocheremo a brain out a livello 1 come potete vedere facciamo il livello 1 si è pronta a testare il tuo cervello si cervellino e sta caricando ok qual è il più grande direi il leone ok ma forse al zebra insieme al primo livello e abbiamo sbagliato il libro e basta poi devi fare ok no vedi il livello successivo dove devi solo attendere il leone la forma più grande successivo andiamo col secondo livello successivo e come far sbocciare questo fiore e che cos'è giro la ruota per la ricompensa non facci sia uguale non sia non si sa perché ci ha fatto passare a livello 3 ma metti l'elefante non ci dovremmo prima aprire ecco ok questo è stato abbastanza semplice si andiamo avanti quattro livello quattro livello qual è il più vicino a noi la luna e il sole ok ecco dovremmo avvicinarci alla parola quindi una domanda più vicino al quanto ti è piaciuto il nostro gioco valuta non valutiamo attenzione